Radio Radicale, siamo con Luciano D'Alfonso del Partito Democratico, presidente della Commissione Finanze, per parlare del decreto aiuti bis. Allora, oggi avete fatto una riunione di maggioranza, non so quale maggioranza, ma insomma per stabilire se si può andare avanti con un accordo sul super bonus su alcune parti come quella sul decente esperto. Allora, in gioco ci sono parecchi miliardi. Che cosa sta succedendo e che ipotesi di mediazione si sta profilando? Intanto è accaduto un fatto importante, che siamo entrati nel merito, togliendo di mezzo le distanze, gli atteggiamenti sfiduciati e facendo giocare una grande partita alle necessità dell'Italia, alle emergenze dell'economia, alle paure delle famiglie e dei cittadini. Con questa chiave di lettura oggi abbiamo fatto importanti passi avanti, gli animi sono convergenti, tant'è che circa 50 emendamenti sono stati istruiti favorevolmente. E poi c'è la questione del docente esperto che sta trovando una evoluzione positiva, superando la distinzione tra brutti e belli, buoni e cattivi. E poi c'è anche un'assunzione di responsabilità istruttoria da parte del governo fino in fondo per trovare anche lì una soluzione per quanto riguarda il super bonus. Mi pare che stia venendo fuori in un quadro di responsabilità collettiva la migliore produzione e manutenzione normativa dell'iniziale decreto legge aiuti bis. Io sono molto soddisfatto, tant'è che alle 18 rifarevo un passaggio sostanziale e poi alle 19 comincia l'attività deliberativa. E non è soltanto una questione di ottimismo perché ho misurato la consistenza delle buone volontà, sia delle forze parlamentari che del governo istruttore. Devo ringraziare i rappresentanti del governo che hanno accompagnato questo nuovo clima che si è stabilito nelle due commissioni, finanza e bilancio. Allora, che tempi avete? Dunque, dopo il lavoro della commissione dovrete andare in aula e il decreto scade l'8 ottobre o il 9? Dunque, noi abbiamo un obiettivo irrinunciabile. Domani portarlo in aula, dopo l'istruttoria di oggi. Ho capito. Quindi la potrete anche lavorare tutta la notte? Io spero che la possiamo lavorare in quei lunghissimi 60 minuti che si inaugurano dalle 19 alle 20. Va bene. Grazie Luciano D'Alfonso. Grazie.